Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi ho deciso di farvi vedere quali sono i libri per bambini che possiedo ma a tema adozione. In realtà questo elenco di libri mi viene richiesto piuttosto spesso soprattutto su Instagram principalmente dalle donne che stanno aspettando di adottare un bambino e quindi ho pensato che potrebbe essere interessante un po' per tutti che io condivida questi libri che parlano di questa tematica un po' particolare. C'è da dire comunque che ogni esperienza è diversa e per quanto riguarda me posseggo un numero limitato di libri sull'adozione perché io semplicemente l'adozione non l'ho dovuta spiegare a Katia visto che lei è stata adottata a sei anni e ovviamente era perfettamente consapevole di quello che le stava accadendo. Quindi magari se parliamo di un'adozione di un bambino o di un neonato e quindi cerchiamo qualche libro che aiuti a spiegare l'adozione ad un bambino che insomma incontra questa parola per la prima volta magari esistono dei titoli proprio mirati per questo obiettivo quelli che ho io parlano semplicemente di adozione raccontano delle piccole storie però secondo me sono molto belli quelli che ho noi li leggiamo veramente di continuo e insomma credo che sia giusto condividerli con voi se siete interessati ad acquistarne alcuni. Prima di iniziare vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirà un mio nuovo video e se non lo fate già seguitemi anche su Instagram io sono Martina Tazza Cominciamo! Il primo libro del quale vi parlo è Il regalo più bello del mondo di Linda Griva e Sheila Stanga Questo libro ha dei disegni molto particolari ve ne faccio vedere alcuni ecco qua quindi questi disegni un po' sembrano quasi tratti appunti ecco a matita e poi colorati però sono molto belli a me piacciono tanto ecco per esempio questi sono alcuni dei personaggi e qui abbiamo Olivia una bambina che appunto è stata adottata e diciamo ci racconta quella che è la storia che si è sentita raccontare dal padre ogni sera prima di andare a letto quindi il padre ha trasformato la storia della sua adozione come in una storia d'avventura perché Olivia era una principessa che era nata chiaramente da una madre biologica che l'ha partorita in un ospedale ma che non poteva prendersi cura di lei ecco quindi che vengono chiamati dei consiglieri che hanno il compito di cercare un nuovo pub una nuova mamma per questa bambina e la fila è lunghissima di genitori che si presentano perché vogliono tutti diventare i genitori di Olivia i consiglieri appunto poi scelgono una coppia che diventeranno appunto la mamma e il babbo di questa splendida bambina che è sempre in compagnia della sua tartaruga è una storia molto dolce perché io ho visto quanto è importante per una bambina come può essere Katia il sentirsi raccontare la sua storia come se fosse per l'appunto un'avventura meravigliosa che la vede come un'eroina e come il personaggio centrale attorno al quale si ruotano diciamo delle persone che vogliono solo il suo bene che vogliono farla star bene che vogliono farla essere felice e quindi questa storia lo racconta in maniera veramente perfetta la bambina è molto simpatica, molto carina e quindi un titolo davvero indicato il secondo libro che vi consiglio è In famiglia di Sandro Natalini allora questo libro parla appunto di diciamo della famiglia in generale prima di tutto si apre con un albero genealogico noi abbiamo attaccato anche tutte le nostre foto era già pronto questo libro prima che arrivasse Katia c'è anche Tuco chiaramente quindi a lei piace tantissimo la sera quando lo leggiamo indicare tutte le persone e nominarle insomma ricordare chi sono soprattutto all'inizio chiaramente e poi ecco i disegni sono così e qui si parla della famiglia per l'appunto quindi siamo famiglia quando ci vogliamo bene nonostante le diversità nonostante la lontananza nonostante le litigate quindi ci sono tutte quelle cose che un po' caratterizzano tutti i tipi di famiglie e il fatto che in realtà per essere una famiglia basta esserci quando abbiamo bisogno e volersi bene e amarsi e non so sentirsi a casa ecco quando stiamo insieme è un libro molto dolce un libro con poche frasi che deve servire proprio da ninna nanna prima di andare a letto il terzo libro che vi mostro invece è un libro al quale tengo veramente tanto di mamma ce n'è una sola di Isabella Paglia allora questo libro parla appunto affronta diciamo quella tematica un po' difficile che è la presenza di una mamma adottiva e di una mamma biologica ci tengo a dire che questo è un argomento sul quale si può essere d'accordo oppure no cioè sull'esistenza di una oppure due mamme in realtà io credo che questo cambi molto in base alla storia del bambino al suo passato se si ricorda o meno della madre biologica se l'ha conosciuta a che età è stato adottato insomma ogni storia è diversa quindi è abbastanza normale che la presenza più o meno forte della madre biologica faccia chiaramente anche cambiare il modo in cui se ne parla di questa cosa è vero che in adozione si sente tanto parlare di mamma di pancia e mamma di cuore una definizione che però io non sento tanto mia e che quindi noi in casa non utilizziamo tanto sicuramente nel mio modo di educare Katia e in base ovviamente anche alla sua esperienza e alla sua storia il messaggio che vogliamo trasmettere è quello che di mamma ce n'è una sola cioè io chiaramente ma senza negare la presenza ovviamente di una madre biologica che l'ha partorita però ecco il termine mamma è secondo la mia visione associato alla persona che si prende cura di te per tutta la tua vita che ti cresce ti accudisce e ti ama e ti abbraccia ogni giorno ecco quindi che in questo libro vengono in realtà trattati alcuni modi di venire al mondo non si parla soltanto di parto naturale e di adozione ma anche ad esempio della fecondazione in vitro del parto prematuro quindi del bambino che per i primi tempi cresce all'interno di un incubatrice in una maniera molto dolce quasi si trattasse di una favola completamente comprensibile per qualsiasi bambino inoltre ci tengo anche a raccontarvi questa cosa perché è carina all'inizio c'è questa bambina un po' scuretta un po' come Katia e c'è scritto la mia mamma si chiama Martina ha gli occhi nocciola e i capelli castani visto che veramente sembrava un libro scritto per noi l'abbiamo dovuto comprare ecco il messaggio che c'è alla fine perché qui si intravede un punto di domanda quindi di mamma ce n'è una sola questa è la domanda che si fanno i bambini all'interno di questa storia e la risposta alla fine è sì di mamma ce n'è una sola perché è quella donna che ti cura quando sei malato che viene la notte e sei fatto un brutto sogno che ti abbraccia forte e si prende cura di te ogni giorno infine l'ultimo libro che vi mostro è quello al quale sono più legata in assoluto ed è Il giorno del tuo arrivo di Dolores Brown questo libro è stato regalato alle nostre famiglie il giorno in cui abbiamo detto che eravamo diventati genitori e che sarebbe arrivata Katia se vi siete persi quel video ve lo lascio giù nell'info box perché è un video che ha fatto piangere tutti mi ricordo le persone che lo guardavano mi inviavano su Instagram la foto di loro in lacrime perché è un video commovente semplicemente ho avuto la fortuna di poter riprendere di poter immortalare il momento in cui i miei genitori hanno saputo di essere diventati nonni i nostri genitori anzi quindi è stato veramente un bellissimo momento ecco perché sono molto legata a questo libro che parla per l'appunto dell'arrivo del bambino adottato in questo caso si comincia diciamo parlando dell'attesa quindi questi genitori che attendono intanto preparano la cameretta si fanno tante idee insomma cominciano a immaginare il loro figlio la loro figlia e finalmente questa arriva e quando arriva è un momento di grande festa perché si cominciano a conoscere i parenti si comincia la nostra vita insieme si comincia anche a scoprire quali sono i gusti del figlio o della figlia ed è incredibile vedere quante somiglianze ci sono tra questa bambina e la nostra Katia anche su questi dettagli è un libro che ancora mi fa emozionare la sera a volte quando lo leggo con Katia mi salgono le lacrime agli occhi perché è legato a un momento talmente forte emotivamente parlando che penso che rimarrà nella nostra libreria veramente per sempre spero anche che Katia lo faccia leggere anche ai suoi figli ecco un giorno un libro meraviglioso bene ragazzi il video finisce qui spero vi sia piaciuto come ho detto non ho tantissimi libri che per il resto con Katia leggiamo delle classiche storie della buonanotte tutte le sere però insomma questi sono quelli proprio a tema adozione e ci piace rileggerli ogni tanto trovare le somiglianze spiegare anche a Katia che cosa è accaduto a lei insomma secondo me è molto interessante avere libri del genere in casa e fatemi sapere se avete qualche bel titolo da consigliarmi così anche io lo posso recuperare noi ci vediamo prestissimo con un altro video ciao ciao